Buongiorno a tutti, ben ritrovati a tutti quanti, lunedì 1 febbraio, 12.33 in questo istante, iniziamo una puntata di Good Morning Milano per vedere sempre quello che succede nella nostra città, oggi avremo un collegamento esterno con la zona del cimitero monumentale per una bellissima iniziativa di solidarietà con la città, ma iniziamo invece guardando in questo momento il livello dell'inquinamento sulla nostra città che è tornato a dei livelli respirabili, nel senso che l'aria è pulita, quest'oggi è sopra Milano, stiamo parlando di 15 nanomicrogrammi per metro cubo il PM2,5, Arianna in questo momento lo sta respirando, il vaso di Wise Air, vi ricordiamo che potete contattarci per sapere anche voi come potete installare una di queste centraline, sono delle vere e proprie centraline che monitorano in tempo reale l'aria, le potete mettere sul vostro balcone, sulle vostre terrazze, Wise Air, 100 arianne in giro per la città che monitorano e ci danno questo dato di 15, in questo momento 15 microgrammi per metro cubo di PM2,5. Oggi è lunedì, andiamo avanti quindi parlando del solito appuntamento del lunedì con il calcio, non un calcio qualsiasi ma del calcio femminile, parliamo qui a Milano All News e lo facciamo grazie alla collaborazione con Cartellino Rosa e più della fattispecie con uno dei cofondatori di Cartellino Rosa, sto parlando di Mattia Del Giudice che vedo collegato, buongiorno Mattia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Grazie mille di essere come sempre puntuale con noi ogni lunedì e raccontarci quello che succede nella domenica sportiva del campionato di calcio femminile, ma questa domenica non parliamo di campionato, giusto? Esattamente, perché si è giocata l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, è iniziato la fase finale del torneo con anche risultati comunque positivi per le milanesi. Com'è andata allora e cosa è successo alle milanese? Allora l'Inter è riuscito a conquistare una vittoria importantissima contro la Ferentina dopo una serie di partite dove è arrivata qualche sconfitta. È una rivincita se non sbaglio, giusto Mattia? Non è la rivincita del match di campionato che invece ha perso l'Inter se non sbaglio, giusto? Proprio così, una settimana fa l'Inter aveva proprio perso il campionato sempre in casa, 3-2, una partita sfortunata perché l'Inter già lì aveva giocato molto bene e si è ripreso la rivincita in Coppa Italia vincendo 2-0 con i gol di Bartonova e Caroline Molle-Ransen ha risolto la partita nel primo tempo e poteva anche segnare di più ma il portiere avversario ha fatto davvero dei miracoli. Quindi c'è sicuramente anche il ritorno ancora da giocare però è un 2-0 che comunque lancia l'Inter ha una prospettiva abbastanza positiva. Basterebbe comunque un pareggio in trasferta per riuscire a conquistare la Prodo in semifinale dove potrebbe addirittura trovare proprio il Milan. Ah, ok. Il Milan invece cosa ha combinato in Coppa Italia? Il Milan ha pareggiato a Sassuolo, un a-uno, un pareggio che poteva essere tranquillamente una vittoria. Si è andati in vantaggio al primo tempo con Valentina Giacinti con il solito gol del capitano su assist di Verobochete ma nel secondo tempo la squadra è molto calata e Christy Grimshaw ha sbagliato a porta vuota un gol già fatto sprecando l'occasione del raddoppio il Sassuolo che non ha mollato per un solo minuto ne ha approfittato, un gol sbagliato, un gol subito e David Filgens ha purgato le rossonere al 91esimo minuto nei minuti di recupero facendo l'1-1. Adesso nel ritorno il Milan avrà comunque la partita in casa però non sarà assolutamente facile. Non si ferma però il campionato perché torna il campionato invece settimana prossima, giusto? Esattamente, i ritorni di Coppa Italia saranno tra due settimane il 13 e il 14 febbraio per il Milan il 13, per l'Inter il 14 però appunto prima c'è la seconda giornata di ritorno per la storia femminile. La stiamo vedendo tutta intera tutte le partite appunto della seconda giornata di ritorno dicevi appunto, no? Esattamente, la tredicesima giornata dove il Milan ospiterà il San Marino quindi sulla carta una partita abbordabile per le rossonere che all'andata vinsero 5-0 all'Acqua Vivo Stadium anche se il San Marino nel frattempo ha avuto una grande crescita e non sarà assolutamente facile riuscire a farli gol nonostante sia la peggior difesa del campionato un po' alto allenante ecco riguardo le prestazioni le titane quindi il Milan deve subire Quel 32 gol subiti, giusto? 32 gol subiti da San Marino insomma la dicono grande la dicono molto bene sulla difesa Esattamente, bisogna dire che la statistica è un po' condizionata da 10-0 subito nella prima giornata quindi lì la difesa davvero è crollata però poi nelle giornate successive è andata solo a crescere però appunto è una difesa un po' alto allenante a volte fa bene a volte fa male il Milan però vuole assolutamente centrare la vittoria per rimanere sulla scia della Juventus Le giocatrici a tenere d'occhio sono immagino quelle che hai messo in grafica presentacene Allora c'è Laura Fusetti che in realtà è il difensore centrale del Milan perché appunto il Milan ha la miglior difesa a differenza del San Marino del campionato quindi è un perno che sta portando comunque Solo 5 gol subiti in 13 giornate, mi stai dicendo questo? Esattamente, è anche meglio della Juventus quindi una difesa che sta lavorando davvero molto bene e può essere davvero un punto di forza oltre all'attacco che comunque segna meno rispetto ad altre squadre ma comunque la difesa sarà davvero diciamo la miglior difesa e il miglior attacco Ok, ok L'Inter invece, con chi si vede l'Inter? Poi ho una domanda da fatti L'Inter cambierà nome anche nel calcio femminile? Quindi non sarà più internazionale anche qui? Vedremo un luogo nuovo da metà stagione in avanti? Probabilmente sì, diventerà l'Inter Milano Woman a questo punto anche se probabilmente rimarrà la denominazione Inter Woman secondo me Sennò diventa troppo lungo tra mille denominazioni diverse Comunque l'Inter avrà una trasferta molto ostica quella proprio con il Sassuolo quindi il Sassuolo dopo aver ospitato il Milan in Coppetale adesso ospiterà anche l'Inter All'andata le Nero Verdi riusciranno a vincere 4-1 a Milano quindi fu una partita senza storia però l'Inter nel frattempo è cresciuta molto fino a battere la Fiorentina che è una delle grandi forze del nostro campionato e quindi sarà una partita molto accesa sono molto curioso perché per l'Inter ormai è sempre una prova di maturità ad ogni giornata Perfetto, queste sono le partite che si aspettiamo per la prossima giornata che vede una classifica attualmente insomma molto favorevole per il Milan l'Inter è ancora un po' in difficoltà invece, giusto? Sì, il Milan è in piena scia per la corsa a scudetto sono i tre punti della Juventus e probabilmente si deciderà tutto nello sconto diretto tra qualche giornata l'Inter invece ha avuto qualche K.O. di file quindi è rimasto un po' indietro però appunto è una classifica molto stretta quindi basta prendere bene due o tre partite e si risalgono anche un paio di posizioni Perfetto, va bene Allora io Mattia ti ringrazio tantissimo ricordiamo che oggi lunedì è uscito anche la vostra prima pagina, giusto? Esatto, è uscito il nostro gazzettino online con tutti i risultati non solo della Serie A ma anche Serie B e Serie C e anche tante interviste Adesso poi appunto magari man mano avanti le vostre settimane cominceremo anche a vedere le altre Lombarde le altre cosa fanno insomma ci sono altri milanesi ad esempio nelle classi più basse? Altre milanesi in questo momento no Nelle prime principali In Lombardia comunque c'è il Brescia che è una squadra storica che ha vinto vari trofei abbiamo il corte anche in Serie C insomma ci sono tante belle realtà di cui appunto parleremo magari nelle prossime volte Perfetto Va bene Mattia ti ringrazio tantissimo buona giornata e un saluto a tutta la redazione di Cartellino Rosa grazie mille davvero Grazie a voi buona giornata a tutti Andiamo avanti con la nostra puntata fra poco appunto ci collegheremo con Maria Pia e con Emanuela che sono le nostre inviate sul campo Emanuela Persico sarà proprio davanti al muro della gentilezza per raccontarci questa bellissima iniziativa di Milano ma prima di questo un attimo di pausa di riflessione insieme all'incursione poetica delle foche parlanti The night a taxi drove me the driver to the hospital ovaries on fire Too late I said Mental he said Mood Womblo mood This The head dripping blood No serotonina Hey It's okay Va bene The mood Permits Access Passes Drop Fail Up The climb Hours Up Room 66 Ed eccoci ritornati in studio grazie mille alle foche parlanti grazie mille a Celia Ionach la sua bellissima incursione poetica di oggi da quel micro cortile che è davanti proprio al suo spazio ma che diventa un'aria immensa di aria di libertà uno spazio di libertà grazie alle sue bellissime parole vi dico seguite seguite a Celia, Alice e Francesca su tutti i vari social non troverete le foche parlanti perché appunto le foche parlanti non sono un'entità sola ma sono tre bellissime persone bellissime menti che vi fanno viaggiare vi fanno volare grazie alle proprie parole ve l'ho detto poco fa appunto abbiamo un collegamento esterno le vedo già collegate con noi possiamo quindi collegarci con Emanuela Persico che vedo collegata insieme a Mariangela Vitale buongiorno emanuela eccoci da te no aspetta scusate scusate il canale del collegamento di Amit ok lo sentite? tecnicamente è una roba tecnica sono con Filippo la regia Filippo canale 7 non 4 ok perfetto va bene ok faccio così allora salve a tutti siamo qui fuori in senso del futuro perduto siamo qui davanti al muro della bensiletta come vi vedete è un'iniziativa nata a Milano il primo muro della bensiletta a Milano è con noi Mariangela Vitale benvenuta 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 allora stiamo qui per raccontare un po' questa abbondissima iniziativa quindi dove ci troviamo e come è nato il muro della gentiletta qual è l'idea alla base di tutto questo progetto allora il centro del futuro perduto è un centro culturale e da sempre da quando è aperto affine alla cultura alla solidarietà e quindi durante i nostri eventi si chiedeva per volessere di portare un dono che fosse un indumento o un libro quindi il progetto del muro della gentilezza è nato come conseguenza a queste politiche che già attuavamo ed è una semplice parete attrezzata nella quale appunto predisponiamo degli indumenti e dei libri così che chiunque ne abbia bisogno possa prenderli l'idea del muro della gentilezza non è nostra ma è un progetto che nel mondo esiste da parecchio questo è il primo milanese ma sappiamo in Italia che ce ne sono parecchi altri ed è semplicemente una cura un'attenzione e anche una risposta attiva alle esigenze del territorio e della cittadinanza ok e la nostra domanda ovviamente per dare dei suggerimenti soprattutto ai milanesi che vogliono partecipare che hanno voglia di fare solidarietà soprattutto in questo momento difficile quindi come si dona come funziona proprio questo atto di solidarietà quando si deve venire se magari si deve prenotare per poter donare insomma spiegaci un po' come i vari milanesi devono fare per partecipare allora chiaramente quello che ritiriamo deve essere consono alla stagione che si sta vivendo quindi adesso abbiamo bisogno di giacche di coperte di quanto possa servire per aiutare chi vive in strada ci siamo resi conto che quello che serve di più sono indumenti maschili perché per le donne ne abbiamo già parecchi e si può venire a consegnarceli dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.30 a 19 mentre il ritiro è possibile durante tutti i giorni della settimana perché noi come collettivo siamo comunque sempre qui ci torniamo e quindi c'è la possibilità di venire a prendere quanto serve per tutti i giorni della settimana come vediamo poi gli oggetti sono vari cioè si va da un pantalone a una giacca a una maglia ma anche un libro cioè soprattutto i libri noi ne vediamo parecchi e di solito quanto tempo cioè a livello di tempistiche un cappotto magari può restare sul muro della gentilezza prima di essere tolto risostituito siete voi che decidete questo tipo di soluzioni chiaramente la parete non è una parete abbandonata ma ci siamo appunto noi come collettivo all'interno che la gestiamo e quindi ci rendiamo conto di giorno in giorno qual è la necessità tendenzialmente le cose che mettiamo sul muro la mattina la mattina dopo non ci sono più per cui c'è proprio un ricambio giornaliero bene bene quindi è sempre attivo e ogni giorno si cambia e noi ci chiedevamo insomma comunque donare è un'attività sicuramente che richiede grande coraggio e va premiata però anche essere capaci di ricevere a volte può sembrare difficile cioè rendersi conto di aver bisogno di qualcosa e riuscire a prendere anche solamente una giacca oppure un libro dal muro qual è la vostra percezione di questa magari difficoltà ad essere coscienti di aver bisogno di prendere qualcosa dal muro ma io credo che la consapevolezza sia sempre da esercitare per ciascuno di noi quindi se arriva poi a un momento in cui ognuno sa qual è il bisogno di cui ha bisogno la bellezza del muro della gentilezza per chi lo ha pensato tempo fa è proprio quello di essere comunque discreto quindi chi non ha voglia di avvicinarsi ad altri centri ma ne ha il bisogno in questa maniera in maniera totalmente anonima può prendere quello che gli serve certo è che oltre alla parete noi sappiamo di essere qui e quindi anche delle persone che invece hanno dei bisogni in più particolari o che non trovano niente sul muro ci toffano noi siamo lì disposti a cercare insieme nel nostro magazzino quello che può servire e come il muro comunque si adatta ai vari eventi cioè rimane sempre così oppure magari a Natale si cambia Pasqua cioè come si riesce comunque ad adattare appunto i vari indumenti e le vostre iniziative poi ai vari eventi che si susseguono durante l'anno grazie per la domanda perché ci aiuta a far capire che il progetto del muro della gentilezza e quindi questa attenzione questo questo desiderio ad essere solidali che non è mai facile ma bisogna sempre riattivarsi per tenerlo vivo è in continuità con tutte le attività culturali e artistiche che si fanno all'interno quindi il solo fatto che la gestione è ad opera nostra che siamo diversi e molti sono artisti permette anche una ricerca artistica diversa e più legata alla realtà quotidiana che si vive quindi non c'è mai uno scollamento tra la parete mettiamola così e quello che accade all'interno e quindi chiaramente poi sulla base delle esigenze anche dell'evento ci si divide tra chi deve curare l'evento e chi deve curare il muro e tendenzialmente si va di pari passo per il Natale invece abbiamo appunto voluto dare mettere qua sulla parete oltre che i vestiti e i libri anche dei giocattoli che c'erano stati donati che quindi potevano essere un regalo molto simbolico per i bambini però ecco diciamo che la parete è un tutt'uno con i progetti che si fanno all'interno quindi si va e comunque allora questo è un gesto bellissimo di solidarietà però purtroppo capita spesso che ci sono delle critiche soprattutto a livello dello spazio che viene occupato qual è la vostra risposta magari a chi dice che diciamo questo spazio diciamo non è occupato legalmente come rispondete a queste critiche che vi vengono rivolte le critiche non ci scandalizzano possono al massimo stupirci e portarci a fare del meglio perché la verità del nostro agire noi la conosciamo e forse allora dobbiamo renderla più limpida anche per chi ci critica chi ci critica descrive quello che vede quindi è vero descrive ma non guarda quindi noi invitiamo a guardare e a conoscere meglio quello che facciamo e capirebbe che non è un progetto fatto per per fare ma che ha un significato molto importante per noi e appunto come dicevo prima anche per la ricerca dei nostri artisti per tutto quello che facciamo all'interno perché poi ricordiamo il muro della gentilezza non è solo questo ma è parte di un progetto molto più ampio che appunto il Tempio del Futuro Perduto quindi ci sono anche tante altre attività potremmo dire che è un gruppo di giovani che hanno cercato una propria strada all'interno della Milano che blocca un po' a causa della burocrazia e quindi trovare il proprio spazio artistico soprattutto all'interno di queste mura che sarebbero l'ex fabbrica del vapore giusto? Sì questo lotto appartiene sempre al complesso di fabbrica ma non era stato riqualificato vedendolo in abbandono per tanti anni si è deciso di diventare dei cittadini attivi e quindi di riqualificarlo piano piano attraverso risorse proprie e attraverso le economie che abbiamo creato con gli eventi quindi quello che viene creato qua dentro viene rispeso e investito qui per la manutenzione della struttura e per quanto serve per poter andare avanti a livello culturale e artistico ci siamo resi conto di avere incrociato gli interessi di molti giovani che cercavano appunto uno spazio in cui esprimersi quindi è assolutamente vero che il tempio vuole essere uno spazio per i giovani ma soprattutto vuole essere un luogo in cui costruire le condizioni per le quali il futuro poi non sarà perduto quindi la spiegazione del nome è un po' questa quindi sta a noi creare queste condizioni condizioni che comunque ci vedono dialoganti per nostra scelta con l'amministrazione comunale noi abbiamo chiesto più volte di poter trovare insieme la giusta risposta giuridica per poter procedere per poter dare continuità al progetto va bene quindi io ti ringrazio Milano News è molto contenta insomma di poter intervistare avere contatto con queste iniziative così propositive soprattutto per la solidarietà e lo spazio per i giovani al giorno d'oggi quindi ricordiamo a tutti i milanesi che vogliono donare questo muro a vostra disposizione durante tutta la settimana e quindi siete proprio invitati a fare il vostro gesto di solidarietà e sostenere questa iniziativa quindi io restituisco la linea a Fabio Sissi ti sento no no volevo capire una cosa perché appunto rispieghiamo bene un attimo allora io ho qualcosa che voglio donare magari adesso va a vedere trovo magari il cappotto del regista e ve lo porto volentieri come funziona lo posso venire lì appendo da solo devo portarlo dentro come funziona gli chiediamo cioè spiegatemi bene come funziona questa parte va bene quindi proprio per ricapitolare nel caso qualcuno avesse un cappotto a casa che vuole donare può portarlo qui e appenderlo direttamente oppure lo porta a voi allora se vede che c'è dello spazio libero può appenderlo direttamente altrimenti ci citofona e noi lo mettiamo nei magazzini perché poi chiaramente avendo non spazi infiniti diciamo sempre alle persone di portare un numero contenuto di cose e al massimo ripassare più volte a distanza di qualche tempo ecco appunto perché ci interessa dare cura a quello che si fa quindi non è semplicemente un spostare dei vestiti da una casa all'altra ma devono avere un'utilità quindi bisogna poi attivarsi perché questo accada e invece per prendere qualcuno deve sempre chiedere oppure può passare anche questo uguale quindi se vede che ci sono degli indumenti che possono andare bene direttamente sulla parete li può prendere altrimenti ci citofona ecco oramai alcuni li conosciamo e quindi alle volte c'è proprio anche la possibilità di andare oltre di ascoltarli e di capire se possiamo aiutarli in altro modo o comunque indirizzarli verso altri percorsi quindi entrambe le cose sono possibili va bene quindi Fabio a questo punto possiamo restituire la linea noi ringraziamo Maria Angela Vitale ringrazia anche la parte nostra qui dello studio ringrazia Maria Angela anche la parte nostra Fabio ti ringrazia in tutto lo studio quindi vi restituisco la linea e a mercoledì grazie mille grazie mille allora a Emanuela Persico e Maria Pia Fumarola che era in regi alla produzione del collegamento un ottimo collegamento grazie mille ragazze un muro della gentilezza a Milano insomma quindi andate a scoprirlo in via Luigi Nono vicino al monumentale abbiamo visto abbiamo visto anche abbiamo una cartina per far vedere bene dov'è giusto Filippo facciamola vedere abbiamo una bellissima cartina fatta dal nostro bravissimo Filippo in regia so che sta arrivando eccola qua perfetto all'incirca da qui si potete capire dov'è proprio di fianco al monumentale quella che molti ci ostiniamo a chiamare via Cenisio in realtà in quel tratto si chiama via Luigi Nono e c'è questo muro della gentilezza andate lì e siate siate gentili come lo siete sempre anche quando ascoltate e seguite le nostre dirette torniamo quindi a salutarvi io vi ringrazio davvero tantissimo per averci seguito anche quest'oggi ancora un grazie alla nostra ragazza in esterna Emanuela e Maria Pia ottimo lavoro ci rivediamo sempre qui mercoledì con una puntata di Good Morning Milano sempre qui per raccontarvi Milano la città metropolitana è tutto quello che fa grande la nostra città grazie mille arrivederci a presto